Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulle traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade per oggi martedì 15 marzo, caratterizzato da viabilità con flussi più intensi in direzione dei centri urbani. Sarà una bellissima giornata di sole, ma prudenza perché in questo momento ci sono precipitazioni nevose in atto sulla 5, la Torino-Curmaiere al traforo del Monte Bianco, ma anche sta piovendo in questi tratti, occasione questa per invitarvi a partire equipaggiati di pneumatici invernali o catene. Monitoriamo brevemente le immagini che ci giungono in diretta all'area minighina e come vedete flussi intensi di traffico analogo alla situazione alla diramazione di Roma a sud dove al momento ci sono un chilometro di code. Andiamo in area Ligure per segnalarvi lavori di ammodernamento e manutenzione e si registrano code sulla 10, la Genova 20 miglia per un chilometro tra Renzano e Celle Ligure in direzione del confine di Stato. Code che ritroviamo anche sulla 9 tra Como Centro e Como Montolimpino in direzione del territorio elvetico. Abbiamo un'ultima notizia della 14 interessata da code tra Bologna, San Lazzolo e Imola e quindi prudenza alla guida. A voi una bellissima giornata e arrivederci.